Ok, voglio decorare la torta! Ciao! Che bella che è la torta! Mi servi, vieni qui, per favore! Ma non è finito! Ok, l'ultimo tocco! Wow! Ok, mi servi! Ok, sedetevi qui! Ok, ci sarà... Una sfida! Sì, decorazione! Andiamo! Ok, io voglio una torta a forma di dinosauro! Ok, potete cominciare! Ok, sì! Proviamo a fare questa torta! Io ho un'idea bellissima! Ok, dobbiamo ritagliare le parti necessarie! E poi li devo collegare! E avrò un dinosauro gigante! Voglio usare il verde perché il dinosauro sarà verde! Ok, colleghiamo tutte le parti grazie alla crema! Mmm, sì, mi ha assomigliato a Lego! E poi, alla fine, avrò una cosa non di plastica, ma commestibile e divertente! Ok, tra poco il mio capolavoro sarà pronto! Ok, dopo che abbiamo finito, dobbiamo... Sì, mettere tutte le cose a posto, ma la crema è buona! Ok, prendiamo la spatola e rileghiamo tutto! Guardate! La mia torta assomiglia al dinosauro! Ma non è tutto! E adesso aggiungo la crema di un altro colore! Ok, mmm, assomiglia! Siamo le certola! E adesso mi servono i mini oreo! Grazie ad essi! Io farò, sì, la crosta del dinosauro! Bello! Sì, gli occhi saranno fatti di marshmallow e quella gelatina! E poi... Devo aggiungere queste ali! Fatto! Wow! Non credo ai miei occhi! Ok, devo fare qualcosa anch'io! Per cominciare, devo assemblare la torta! Ok, metto tanta crema! E sopra... Il verde! Voilà! Mmm, fatto! E adesso... Grazie alla spatola, devo rilegare tutto quanto! Fatto! Sopra devo grattugiare il cioccolato! E adesso... Devo aggiungere dell'erba commestibile che è fatta di cioccolato! Mmm, sembra bello! E adesso... Il tocco finale! Ok, io uso il mastice per gli altri pezzi! Sua mia è la plastilina, però è commestibile! Posso fare qualsiasi cosa con essa e decorare con essa la torta! Ok, il dinosauro è pronto! Devo solo colorarlo! E' così carino! Ok, ne aggiungo gli altri e passiamo alla prossima cosa! Devo aggiungere queste uova cioccolate affinché assimilissero delle uova di dinosauro! E poi... Ho un dinosauro! Qui nel bicchiere è il più carino! E sopra... Metto gli extraterrestri! Ma perché voi sapete che... Tutti i dinosari sono stati rapizi dagli extraterrestri! Adesso lo sapete! Wow! Quanto sono belle queste torte! Io voglio partire da questo! Mmm... Piccoli dinosauri! E poi... C'è l'uovo di cioccolato! Wow! Ma questo cos'è? Ma... Dove vanno gli extraterrestri? No! Fermi! Io non vi lascio! Ok! Io vi voglio mangiare! E anche la vostra nave! Mmm... Vabbè... Non è buono! Scusatemi! Passiamo alla torta di Sandy! Sembra molto... Originale! Ok! Sopra ci sono dei piccoli ore! Io li adoro! Mmm... E adesso proviamo la torta! Mmm... Le cose gommose le adoro! Ok! Questa sì che è la vittoria! Uh... Io ho vinto! Senti! Io ho vinto! Ok! Io voglio la torta con i pesciolini e l'acqua e il sole! Potete prepararmela! Interessante! Ok! E so come realizzarlo! Ok! Mi serve il cioccolato sciolto! E poi lo verso qua! E poi lo verso qua! E poi lo devo distribuire per bene! Perfetto! Sì! Poi tiro fuori i biscotti! E li devo grattugiare! Mmm... Non è male! E poi dopo che il cioccolato si è raffreddato posso tirarlo fuori! E anche la seconda parte si è raffreddata! Ok! Devo un po' spaccarla così in due! Li collego! E all'interno metto il pan di spagna e la crema! Ok! La crema, pan di spagna, la crema, pan di spagna e così tante volte! E poi riempiamo tutto quanto con la crema! Sì! Poi mi serve il cocco! Così! Ne mettiamo sopra! E poi ritagliamo un po' così! Benissimo! E sopra mettiamo i biscotti! Poi prendiamo la gelatina al mertillo! E ovviamente... Sì! Prendiamo... Mmm... Quello che ci serve! Un piatto necessario! E poi lo versiamo qui! Assomiglia alla sabbia e all'oceano! Giù iniziamo le conchiglie! E iniziamo una palma commessibile! Sì! La mia torta è pronta! Cavolo! Vabbè, bello! Ma io non farò di peggio! Ok, per prima cosa assembliamo la torta! Sfruttiamo la crema e mezziamo il pan di spagna e così fino alla fine! Poi prendiamo il coltello e ritagliamo quello che non ci serve! E grazie al cucchiaio facciamo una grotta! Bene! Mezziamo un pezzo sopra e dobbiamo aggiungere del cioccolato! Sì! E poi spalmiamo il cioccolato! Bene! E adesso possiamo passare al secondo passo! Aggiungiamo le decorazioni! Sono dei sassolini in cioccolato! E le conchiglie sono cioccolatose! E mettiamo un pezzo di plastica! E qui versiamo la gelatina! Sì! La mia gelatina assomiglia all'oceano! È così bella ed azzurina! E adesso prendiamo dei biscotti! E mettiamo sopra le briciole! Aggiungiamo l'erba commestibile! Togliamo! Sì, aggiungiamo alcuni dettagli! E tutto è pronto! Fatto! È molto bello! Wow! Che bello! Cena! Buon appetito! Wow! Mh! Le torte! Certo, fatta! Ok, voglio provare! Ok! Dobbiamo partire da questo cocco! Sembra molto bello! Sì, come gusto! Ancora più buona! Sì! Wow! E senti cosa ha fatto un'isola con l'oceano! Tagliamo un pezzo! La gelatina è strana! Non mi piace! E poi non è buona! Ok, questa volta... Vince Chloe! Buona! Sì, sapevo di vincere! Ok, preparatemi una tarta Lego! Cosa? È facile! Tutto sarà fatto! Ok, per cominciamo... Assembliamo la torta! E usiamo la crema e la vaniglia! Ah, dopo che la torta è fatta, dobbiamo mettere tanta, tanta crema e... Dobbiamo mettere tutto quanto per bene! Tagliamo un pezzo! E mettiamo via! Ok, poi mi serve il cioccolato rosso! Lo sciolgo, grazie al phone! Ok, bene! Il cioccolato è sciolto! E adesso posso... Sì, dargli la forma del Lego! Sì! Avrò delle figurine di Lego fatte al cioccolato! È geniale, vero? Caldo! Ok, il cioccolato si è raffreddato, i pezzettini sono molto belli! Le mettiamo qui, dove abbiamo ritagliato il pezzo! Qui ci saranno le mure di Lego, guarda, i costruttori, la macchina... Guardate, c'ho delle costruzioni commestibili qui! Sì, bello! Oh, e io... Cosa? Vabbè, aspetta! Adesso continuo! Ok... Oh, dei biscotti al cioccolato, metto le bricciolo là, metto la crema e sopra metto gli arachidi, un altro pezzo di pan di spagna, la crema e sopra mettiamo dei cioccolatini. Ok, dell'erba commessibile al cioccolato, gli arachidi... Sì, ok, devo essere più veloce perché devo finire in tempo! Aspetta un attimo! Sandy, ma non è tempo! Ok, basta! Smettila! Ok, ecco, sto facendo del mio meglio! Ok, un po' di crema... Ok, qui... E qui la spatola... Manca qualcosa! Ok, le pressione Lego! Ok, fatto! Posso servire! Ma, ma, erano miei! Wow, non credo ai miei occhi! Sì, ce l'avete fatta! Voglio assaggiare questo pezzettino! Mmm, leghi di cioccolato, buono! E proviamo un pezzo! Sembra bello! Buono! E la macchina... Ma perché è così duro? Ho quasi rotto un dente! Ok, non mi piace più questa torta qui! Ok, proviamo questa qui! Ok, ci sono le arachidi... E il cioccolato! Sì, che bello! Questa torta vince! Sì! Ho vinto! Io sono la migliore! Ti è piaciuto il video? Allora iscriviti al nostro canale! Qui ti aspettano sempre delle sfide molto interessanti e divertenti! Ci vediamo! Ciao, ciao! 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 Ciao, ciao!